Buongiorno a tutti, è un grande piacere ricevere qui nell'Istituto di Architettura dell'Università di San Paolo, il professor Alfonso Ippolito, che con questa presenza esvolgerà un lavoro che dentro il nostro accordo internazionale tra l'Università di San Paolo e la Università Sapienza, il Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell'Architettura, è un grande onore ricevervi, attraverso il professor Alfonso io ringrazio il professor Carlo Bianchini che è qui con noi, è in Italia e è qui con noi in questa trasmissione, ringrazio il professor Carlo per aver firmato questo accordo, accordo che il professor Alfonso ha intrapreso alcuni anni fa insieme a professora Simone Vizioli, un accordo che per noi è di grandi onori e grandi piaceri perché l'Università di San Paolo e il Dipartimento svolge, il nostro Dipartimento è un istituto nuovo, c'è dieci anni e questi rapporti sono di grandi possibilità, accordo che abbiamo firmato, un accordo generale, poi accordo per le ricerche e anche per gli spostamenti di studenti e anche per i docenti e questo che è svolto la professora Simone che è ritornata a poco, è stato accolto per voi, è stata accolta per voi di forma bellissima, ringrazio molto perché è un accordo che si inizia per un docente vostro e una docente nostra che c'è una grande importanza anche istituzionale e questo fa sì che la nostra relazione con questo accordo comincia a avere una forma più estesa e auguro più profonda e più a lungo. Tanto io passo la palavra al professor Alfonso ringraziando per la visita e per il lavoro che svolge in questo momento. Grazie, buongiorno, buongia, grazie a tutti, al professor Jobert per averci dato la possibilità di portare avanti questo accordo che abbiamo stipulato che ci permette di continuare a fare e a sviluppare delle ricerche congiunte ma soprattutto grazie per poter condividere esperienze con studenti sia nostri e quindi grazie alla professoressa Vizioli che è venuta in Italia e vostri che in questo momento stanno portando avanti con noi un piccolo lavoro. Non vorrei parlare lungamente ma vorrei lasciare la parola ai miei colleghi che sono qui presenti che vi introdurrò in primis il professor Bianchini innanzitutto vorrei dire sono colleghi ma fondamentalmente sono amici è il primo passo importante in questo nostro lavoro congiunto. Il professor Bianchini è il nostro direttore di dipartimento, direttore del dipartimento di storia, disegno e restauro, la professoressa Chiavoni che non so se è uscita dal collegamento e eccola professoressa anche lei di disegno dimenticate di dire che siamo tutti docenti di disegno con delle particolarità differenti sicuramente tutti esperti di rilievo ma con delle declinazioni importanti sul disegno, sulla geometria descrittiva e sulla comunicazione visiva. Il professor S. Emanuele Chiavoni, il professor Carlo Inglese, anche lui collega, amico, condividiamo anche la stanza insieme, anche lui professore di rilievo, grandi esperienze congiunte e la professoressa Porfiri, nostra giovane studiosa, anche lei si occupa in questo momento di rappresentazione di disegno, vi farà una interessantissima presentazione e è Roberto Barni che è un nostro dottorando del secondo anno, che ha portato avanti una ricerca per la sua tesi di laurea lavorando sulla fotogrammetria digitale e che si sta formando all'interno della nostra scuola di dottorato, quindi un passo anche importante per i nostri allievi che stanno in formazione e quindi volevamo dare anche la possibilità di comunicare una nostra esperienza attraverso un profilo che fosse vicino al vostro. Ringrazio ancora tutti per le grandi opportunità, per il piacere, per la gentilezza che riceviamo quotidianamente e le attenzioni continue. Grazie e soprattutto un grandissimo grazie alla professoressa Vizioli con la quale stiamo sviluppando e portando avanti un lavoro veramente molto interessante e molto allegro, questa è una cosa anche piacevole, quindi fare ricerche divertendosi non è una cosa da poco. Grazie ancora, lascio la parola credo al professor Bianchini che parlerà per primo. Grazie ancora. Non so se parlare in italiano e in inglese, questo decidetelo voi, come... la mia presentazione è in inglese. Italiano e l'inglese. Carlo, potresti avvicinarti al microfono che ti sentiamo molto lontano. L'altro cavo? Prova. Così mi sentite meglio? Sì, molto meglio, molto meglio, grazie. Preferiscono inglese i ragazzi qui. Ok, I'll switch to English, so it's easier, I hope to understand what I shall try to present to you. First of all, I would like to thank you in advance, as in more or less three days, no, more or less a week, we'll be there with Simone and Alfonso, so we shall experiment the kindness and all the attentions that Alfonso was mentioning, so we are really looking forward to coming to Brazil. Me and Carlo Inglese will be there in a week. However, let me thank also or remind or underline the fact that this work, it's a common and cooperative work developed between the Instituto di Architettura Urbanistica, more or less in Portuguese or Italian more, and the department that was mentioned twice, so I would not repeat the long title of the department. But however, Sapienza in general and our department has a sort of vocation for exchanging, especially with Southern America, researchers and also students. We have agreement not only with Brazil, but also with Argentina. We have an historic connection with Argentina, of course. because some colleagues of ours are in this moment in Buenos Aires for exchange reasons, let's say. So it's a very consolidated tradition for Sapienza, for our department in particular, to exchange and to develop this connection with you. And I think the project in which this moment, this event is taking place, is one of a long chain of events, I think, that in the next year will involve together our two universities. Simone was here for one month last month. It was, I think, a very profitable for her, I hope, period of study and contact with us. And I think, and I must underline that we too had many things that we learned from Simone, you know, when you exchange different traditions and it's different condition also, there is never one institution or one group of people that take advantage of this exchange. Both groups of people take advantage of this. And we do believe in this mixture, this contamination between academic institutions all around the world because this is something that becomes an enrichment for both because we know something that it's really on the other side of the world and on the other side, you learn something from us. So it's very profitable for us. However, after thanking, I think I can switch to my presentation. I'm not only the director, as Alfonso was mentioning before, but I'm also a professor, of course. My field of specialization is a survey, I would say, in 3D modeling. In the last years, I sort of abandoned for a while the survey topic to deal more with building information modeling issues, especially when applied to the built environment, the so-called H-beam. But however, in this occasion, I would like to go back for a while to my first lab. I would say, no, first lab is geometry. The second lab is survey. So just to present some ideas that are very consolidated in my career, I would say, but can be instead interesting, I think, just to share this idea with an audience that not necessarily has our own tradition. So I would like to share my screen. I'll try to do... I never use this software, but I think I will succeed, I hope, in presenting. Let's go. Just a moment. Just a moment. Just a moment. I don't know if I'm sharing the screen. It's uploading my presentation. At least that is what's said. It's processing. Processing. I don't know if you can hear me, however, because I just stopped holding my microphone, otherwise it becomes really crazy. Devi condividere lo schermo, Carlo. Non lo stai condividendo. Ti sentiamo bene, ma non lo stai condividendo. Perché stai elaborando la cosa. Beh, faccio in un altro modo. Non lo stai condividendo. Ok, I can't see myself, so I hope that you can hear me clearly and show. Perfettamente. Ok, this presentation, the title is RIP, Model and Learn. This is something, a sentence to which my friends know that I'm very fond of, because I think it's a sort of synthesis of the process we do apply when we deal with and the survey or architectural, in this case, it's a half and half architectural archaeological survey. But it's through these three words, RIP, Model and Learn, you can summarize somehow the process. Let's go straight to the point somehow, the topic in general is knowledge. And knowledge for us, it's, I mean, architects that, or scholars that, however, are studying built object. It's so, a sort of starting point for studying the objects in which they're interested. And this knowledge is a concept that could be very vague and also very difficult to frame from a certain point of view. And our school, in the last, I would say, 50 years, maybe, made a very intense work in trying to outline what is the framework in terms of scientific application to this problem of the technologies and methodologies you can apply. And this is a sort of a little summary on this. The idea is that we must reach what is called the profound knowledge of the object, something that is aiming at overcome somehow the knowledge we can just get through our senses. And this implies the application of some kind of instrument that could be measuring, first of all, but not only measuring in terms of survey. So, in this framework, there is always a sort of difficult understanding on what is, that could be called scientific, in really strict terms, I would say, and what is not scientific. You know, drawing, sketching, surveying, and representation in general of anything, but architecture in particular, you never know if you are moving under a sort of scientific umbrella. So, what you are doing, it's sort of not questionable from a certain point of view. But on the other hand, you always have the sensation you are like creating something when you draw, when you model, when you try to, for example, make a section or a plan of a building or whatever. You never know in which part of this process you can be more scientific and in which part of this process you are not scientific. So, our school tried to understand these aspects, also frame these aspects. The idea is that architectural and archaeological elements are complex phenomena. Complex phenomena is something that comes from physics. So, it's something that can be, at the same time, more than one thing. So, it can be object, can be the result of a culture, can be many things. And this complexity is one of the, I would say, the knot we must try to cut to really get this profound knowledge. Surveying, and this is, we are coming to the topic somehow, survey is the instrument architects historically have developed in order to get this profound knowledge. And survey is something that is not only a method, but it's really a knowledge process. So, the way in which we can translate, let's say, the quality of the object into quantity. So, measuring is the main important, the most important instrument we have. But this measuring is the base, let's say, the knowledge base, for which we can then process sort of a follow-up of this process of measuring that cannot be simply quantitative, but must bring in, again, quality. And this is something that pertains to human beings, to the brain, I would say, or human beings. So, it must be something that, with intelligence, more or less, of course, with intelligence, starting from the data that comes from the measuring, provides an interpretation to this data. And this interpretation is the product, let's say, of the survey, in terms of reading. This is the term I generally use, the reading of the object. So, for us, this method implies development of models. The models are the abstract counterparts of the object. And, of course, a model, as everybody knows, is something that selects on an object or a phenomenon in general some specific aspects and provides a reading of these specific aspects. So, the architectural survey, in terms of processing, it's measuring data, interpreting the data I have, and then there is a third phase that is representation and communication, meaning that we must provide not only a reading for us, that is something that only, let's say, the reader can read, but through the application of a common code of representation, basically drawing, we can share this information or communicate this information to others. So, this process that can be broken in the task you read there, data acquisition, data selection, interpretation, representation, communication, can somehow group in this RIP, model and learn thing, of which I, that is the reason also for the title of this presentation. So, let's start from RIP. RIP, and, of course, this RIP, model and learn is not an invention of mine, first of all. It was presented, like, 10 years ago by a researcher of the Autodesk group, research group, and was a sort of follow-up of a term or a slogan that were used by hackers of CD DVDs. In that case was RIP, copy and burn. This was the slogan of pirates, of DVDs and CDs, but could be adapted. Adapted can be also useful for us because the RIP phase in that world of the hackers was removing the protection of the CD or DVD. For us, this RIP could be a sort of removal removal of this protection that it's operated through instruments that actually acquire data on the object. For example, 3D scanners or pictures, photographic pictures, or conventional measuring through tape or a total station. Regardless of the technique, I would say, the idea is that through this measurement we try to remove the protection to knowledge each object has because overcoming the power of the possibilities of our senses implies the application of an instrument that is able as like a key to this lower level information that it's somehow deceived to the simple sensorial reading. This is the database, let's say, the set of data from which we can use for further interpretation. And this part of the work is at a certain extent scientific, really scientific, because the evolution of technology is now providing an automation of this process in which the intervention of the user, let's say, is very limited. Once was not before because when I use a tape, I choose the points to measure. So it's my choice to consider one point significant, another point not significant. And if you take 100 people, you will have 100 different approaches. Now this is turning it to another dimension because when you have a laser scanner, you just push the button and the scanner, it's really a scientific instrument that registers information on a basis that is independent or almost independent from the wheel and also the experience of the user. So in this, and also another aspect is that the point, also the point clouds coming from photogrammetry or structure from motion have this same character. So in the end, you have a set of data that are registered, meaning acquired, with an instrument that it's more or less independent, that it's very like, likewise, an instrument that belongs, instruments that belong to other fields of research like biology and physics in which you have a big instrument that registers data. And these data are shared among the scientific community without changes. It's the same at a certain extent also for architecture or for build object now because when you have a point cloud, this point cloud can be shared in a number of originals or copy that are equal each one to the other. and so the scientific community can operate on these point clouds as a standard reading or standard acquisition on the object. From this point on, so moving from the RIP to what is correspondent to the copy level of the hackers and for us it's model, not copy, things change radically. First of all, what is copy from the DVD and CDs was after you have removed the protection, you can read the content of the different cells that you have on the surface of the DVD. So the zero and one that are engraved, let's say, into the surface. Modeling is more or less the same. Modeling is coming from the data you have acquired on the object. that you just provide your own reading. So the worker, the scholar, the modelist, it's using that data and choosing what are the zero and the ones, let's say, just making this parallel. And in this case, the result you obtain is something that is no more scientific. It's something that is subjective. So the creativity, experience, and also skill, I would say, of the user, of the modeler, it's a variable that can be not unique for all the modelers, but depend instead instead on the different human beings working on that. In other words, the responsibility of the model, it's all on the modeler. It's not something automatic that it's, and the responsibility is on a machine or a software or a process. And this model implies selection and interpretation. Selection means that if you have, just to make an example, if you have one million points registered by a scanner, you cannot use one million points to build a plan or a section of a conventional plan or section that an architect makes when, let's say, deals with the knowledge or the reading of an object. You need maybe 50, let's say, 20 points. So out of that million points coming from the scanner, you have to select those 20 points you consider meaningful for the work you must perform. And not only that selection, but this selection implies, it's like a structural connection, interpretation. So every point is not only a point selected, but it's a point selected for a reason. For example, it's a corner. For example, it's a point that has a sort of meaning in terms of reading of the object. But this level of modeling, as I said before, could be also only reserved to the modeler. Not necessarily you can share or these results are shareable with others. To make them shareable, you must go to the third step of this process. And this step for the hackers was burn. Burn means reproduce a new copy of the DVDs I have hacked. in our case is learn. Learn means it's a sort of burning also for ourselves because when we learn something, actually, there is a burning of our hardware, meaning the connection of our neurons in our brain. and so at this stage when we have learned something, we are in a position of sharing this concept of these results with others and for this we must undergo a codification. So we must respect a code that allows us for having consistent drawings and also consistent models. Even 3D models are not necessarily representative unless you have undergone this process. So going quickly because we have not much time and maybe when we are there we can go back to this kind of reasoning. A very quick glance of what modelings mean because this is the key concept. This is the traditional, let's say, workflow. we have an object, on this object we have a sort of small area, small material area. And this material area is something I want to stress because there is a tendency to consider that we have points in our, in the real world and instead we cannot deal with points in our real world because the points live only only in the abstract world of geometry. So when we say I have measured one point, actually I measure even if a scanner performs this activity, I actually have measured a little area on the object. In particular, if you consider a laser scanner, for example, this area can be, can have the dimension of the laser spot, four millimeters, three millimeters, it depends on the, on the technology you use. However, this process from the object to the, to the geometric, what is called geometric model, it's a process of abstraction in which this area, small or big as you like, it's translated in a point. A point is something that it's, uh, identified with three, three coordinates generally, and it's something that has no dimension. This is the definition from, uh, from Euclid's. So something that doesn't exist simply in our world. However, this is the basis, the geometry is the basis for any reflection, any, uh, thinking, I would say, on, uh, on, on material objects. And then the, 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 the number of points I have, the combination of these points, uh, in terms of reading, uh, allows me for a synthetic, to creating a synthesis of the object itself through its geometry. This is called geometric model for, in our, uh, in our traditional, so I would say. And then which, in, in this case, we have different, uh, approaches, because, what you see now is sort of the traditional one, the one in which you have a model that in the end is B-dimensional, meaning a drawing, actually, that is a, is a model, uh, just the same as a 3D model in which you, in which you, we have a, uh, uh, a correspondence between the, the area on the object, the point on the paper, and versus each, we have a correspondence, the same correspondence, unique correspondence between the point on the drawing and the 3D area on the object. And this is a very powerful process. I would say that one of the most powerful advantages the human being, the mankind, had, has had during its evolution because, uh, allows us and has historically allowed us to imagine a transformation of our environment and without, uh, the necessity of transforming the environment to see the results, we could perform a transformation hypothesis on paper, verify this hypothesis, and then when we were, let's say, sure about the results, we pass to the transformation of the environment. So, in other words, if we have, uh, this correspondence between the drawing and the, the, the reality, we can, this is at the basis of the, of designing because design, uh, is mainly performed on paper and then with this sort of pile of drawings, we, we deliver this drawing to someone that builds the object in 3D. Something that I always consider a sort of magic. If you consider paper on one side and bricks, mortar, concrete, steel, on the other and they make, uh, uh, correspondence of a level that allows to translate the ideas that are on paper on the object itself. So, it's very, it's very powerful. So, a little glance on what is the modeling, what is the meaning of model. Uh, we have two, not direction, but two, yeah, two direction of this application. One starts from the object and goes to the, the, the virtual or model, let's say. Uh, this is the, the, the direction of survey. This is a very old, uh, image that combines together a picture of Hagia Sophia and Istanbul. Uh, so an area in Hagia Sophia and Istanbul the idea with an area made of points of geometric points on the 3D model. So, in this direction we have survey. But, if we turn opposite, opposite this direction, we have design. And this is a, an interesting, at least to me, a very interesting image in which you have on the, on the left, uh, a model coming, uh, it's a, a rendering, let's say, coming from this model of the 3D model of the design at that stage of this pavilion in, uh, in Bruxelles. And you have the correspondent area of the, uh, realized object, of the built object of the pavilion. So, just to show that this correspondence is not only in the verse coming from the object to the, to the model, but at the same time from the model to the object. So, there is a sort of circular approach, a circular, uh, trajectories of these, uh, of this modeling and knowledge base that, uh, create a very sound link between the model and the object, both in the survey sense and in the design sense. So, uh, I have five minutes, more or less. I don't want to go too deep, but this is a sort of workflow. What could be the phases in the survey process? So, the studied object, we have just concentrated on the, on the, uh, digital technology, I would say. We have one side scanner, on the other side, photo modeling. They both produce point cloud. The point cloud is now a sort of main reference object, allowing us for all the analysis, the analysis leading to knowledge of built object. So, it's difficult to, uh, to see, uh, works also that, uh, privilege the, the traditional survey methods like tape and so on, even if they are essential. Again, we are still, they are still essential in a survey process, a knowledge process. Then you have the, say, the phase of selection interpretation and you have, we stress the fact that you have both 2D and 3D. Even if the 2D, the 3D, it's now the, I would say, the access point of this process because the point clouds are three-dimensional and so on, uh, we wanted to stress the fact that still the 2D representation, especially for architects, is essential. because provides a reading and interpretation that it's, uh, deeper, I would say, and also more productive for architects. For example, I cannot, uh, I do not know any, uh, any, any designer, any architect that, uh, designs in 3D. This is something that, uh, is not only unusual, I would say, impossible in this, in this moment because our way of thinking it's very based on, uh, it's still based on the, on what Vitruvius was saying 2,000 years ago about iconographia and, uh, orthographia, elevation and plan that is, that are the main conceptual, uh, instruments and architecture that a designer has to set and, and to verify and validate his ideas. So both these, uh, these pathways of, of processing are important. I would not say equal, but equally important. And then you have a representation, a communication in which you have really a variety, I would say, of different models in which you have something that it's strictly geometric and then you have something that it's texturized using the, the, the possibilities of technology that allows you to, let's say, color the 3D points of the object or color the surface that can be interpolated starting from these 3D points and has, uh, has had a very, uh, a huge develop. And I would say not only in the architecture field, but especially for example in the movie, uh, because, uh, you know, all scenes, I would say, that are, uh, used in movies has a higher percentage of, uh, something that is developed, uh, not, not anymore on stage, but in the, in the studio meaning in the virtual studios, I would say. And architecture has profited, of course, as many other fields of this technological, uh, evolution. But we have also thematic models. These thematic models allows us to, uh, deliver a knowledge that can be, uh, let's say, stratified, uh, taking into account the, the different expertise that are involved in the process. For example, you can have thematic models that, tells about the, the, uh, the condition of the surface, for example, in terms of, uh, of damages, degradation. So it's more keen on the restoration field, for example, but you have thematic model that, uh, can instead, uh, represent the level of usage. So you, you can intersect, you can, can apply this, uh, this thema, uh, this thematic modeling to, to many aspects of architecture. So, uh, I think I can stop here now because, uh, otherwise, I, as professor always tend to do, uh, I could speak for hours, but it's not interesting. I think it's more interesting to, to give a hint, uh, a sort of small, uh, inception of what is one of the, of the core of the research that we, our school is developing. And of course, being there in, uh, one week, I don't know if you want to exploit me and professor Inglese, next week, we are, of course, available. So, thank you very much. Grazie Carlo. Noi continuiamo, le domande le faremo alla fine, sappiamo che tu hai un impegno, quindi ti, ci puoi tranquillamente lasciare, ti ringraziamo ancora per la comunicazione e, eh, la prossima settimana sarei qui con i ragazzi. 4 e 20, diciamo che tra, un quarto d'ora più o meno mi dovrei muovere. Ok. 19 sarà lì, che sarà qui. Qui. Speriamo. Carlo Inglese e Bianchini staranno conosco nel seminario final di voi la settimana che viene. Tutto il giorno, 10 ore, eh? Grazie, grazie. Grazie a voi, thank you very much. Obrigado, Esther. Giusto. Benissimo. Posso dire? Agradeço anche a tutti che stanno che stanno assistendo per il chat. Non voglio nomiare tutti che stanno qui, ma abbiamo la presenza di Denise Kemper, Anna Ceravolo, Amorim, che sono precursori, sono studiosi del tema. Então, in nome di questi che ho mencionei, ma a tutti che stanno assistendo, molto grazie per questa presenza. Grazie ancora a tutti. Grazie. Adesso introduirei la professoressa Chiavoni con Francesca Porfiri. Grazie. Emanuela Chiavoni e Francesca Porfiri. Sì, buonasera. Buongiorno. Buongiorno, riuscite a sentirmi? Benissimo, Emanuela, benissimo. Bene, perfetto. Devo aspettare o vado? No, puoi iniziare. Ok. Allora, intanto saluto molto Simone Vizioli, tutti ovviamente i partecipanti che sono all'auditorio, Alfonso Ippolito e ringrazio di averci invitato a portare una testimonianza, speriamo ovviamente interessante, ma sulla quale ovviamente portiamo avanti la nostra ricerca da molti anni. Allora, intanto comunico che la presentazione che adesso sarà per condividere Francesca Porfiri sarà doppia a due mani e la prima parte farò io la presentazione e la seconda parte verrà svolta da Francesca Porfiri che prego di mandare la condivisione della presentazione. e l'argomento che io non lo vedo Francesca No, non vediamo ancora? No, non lo vedo. Forse c'è un tempo tecnico. Mi diceva che ero dietro le quinte, non so perché, allora forse è una... Io vedo te, ciao Francesca, ma non la presentazione, però mi dice che sto condividendo, giusto? Spegni scherzo. riprovo a condividere, allora. Sì, se no vado io, però per comodità avevamo pensato che fosse meglio così. Adesso, scusi Emanuela, forse Carlo deve chiudere la sua presentazione, non lo so se Carlo mi ha chiuso. Perché noi, parlo io, però presenterà Francesca per tutta, diciamo, la... Sì, sì, ma però come non vediamo e ti crediamo che Carlo Bianchini è ancora collegato con condividendo, Carlo? Non lo so, forse è questo problema. A me qua dice che sta condividendo lo schermo, però non so se voi lo vedete o meno. No. No. Non è questo. Non lo vedo nemmeno io. Ah, ecco. Ecco, va bene. Ok, adesso va bene, quindi, ecco allora, la presentazione che svolgeremo adesso in due parti ha un titolo che vedete nella home page, il disegno per la conoscenza del patrimonio culturale tangibile e intangibile. Questa, diciamo, questo nostro osservatorio di ricerca si integra perfettamente con tutta l'acquisizione dei dati che vengono svolti nelle ricerche finalizzate alla conoscenza del patrimonio e che portiamo avanti attraverso operazioni di rilevamento. È una parte molto importante che noi pensiamo proprio perché consente di mettere a fuoco il patrimonio in maniera anche emozionale e sensibile e questa particolare osservazione riporta delle intuizioni su quelle che poi saranno le parti da indagare. la nostra intenzione è quella come dimostrano le parole chiave di ragionare nell'ambito del rilevamento prego Francesca di andare avanti con il perfetto le parole chiave hanno sempre un significato molto importante perché nell'ambito ripeto della conoscenza del patrimonio culturale in genere che è architettonico urbano paesaggistico territoriale noi andiamo a ricercare a documentare a catalogare a classificare ad archiviare ma soprattutto in questo passaggio noi vogliamo mettere in luce il valore della narrazione cioè narrare per diffondere per disseminare per raccontare per divulgare quelle che sono non solo i valori materiali che contemporaneamente andiamo a misurare ad acquisire i loro dati ma contemporaneamente il valore intangibile immateriale l'atmosfera che i luoghi le città gli edifici rimandano e questo non è da sottovalutare ma anzi è da leggere insieme proprio per poter avere una conoscenza più profonda del nostro patrimonio che ci circonda e che dobbiamo manutenere per poterlo valorizzare e quindi si spera trasmetterlo anche ai nostri posteri al futuro andando avanti la rappresentazione sulla quale ovviamente con la quale oggi vogliamo condividere con voi a parte queste poche frasi preliminari ma in realtà è una rappresentazione grafica nel senso cerchiamo di comunicare con le immagini con i nostri disegni tutto il materiale presentato sono nostre rappresentazioni raffigurazioni proprio perché vogliamo urlare al mondo che il disegno è un linguaggio universale col quale si rappresenta l'ambiente naturale e tutto quello che riguarda la realizzazione dell'uomo le realizzazioni dell'uomo entra a far parte a pieno titolo una un'arte ogni rappresentazione ovviamente che si lega al disegno a un'espressione artistica ed è proprio il disegno dal vero cioè quel momento quel processo che ci costringe a fermarci per guardare veramente con attenzione ciò che abbiamo di fronte anche nel più piccolo dettaglio e questo è un processo mentale e fisico è tattile è attico è un coinvolgimento che sviluppa tutto ciò che sono le ideazioni cioè i processi rimari e sono fondamentali per poi progettare i rilievi le indagini successive e come dicevo prima la valorizzazione mettiamo l'appunto sul linguaggio universale che è il disegno e quindi questa è una modalità che viene compresa da tutte le culture di tutto il mondo e soprattutto ne favorisce l'unione in questo momento dobbiamo molto riflettere su questo passaggio e utilizzare tutti i nostri mezzi nel nostro caso il nostro linguaggio il nostro lessico universale è proprio il disegno è una modalità che parte da una struttura metodologica che consente di apprezzare le ricchezze del nostro patrimonio e contemporaneamente recupera la storia il disegno manuale analogico con tutte le tecniche con tutti i sistemi da sempre l'uomo si è espresso disegnando sulla roccia sui muri per terra in tutti i luoghi fino ad arrivare sulla carta e in questo momento affrontare le integrazioni e le potenzialità del sistema digitale e quindi è un recupero ma soprattutto che focalizza la fondamentale importanza del processo oggi attraverso la tecnologia noi abbiamo modo di utilizzare e soprattutto in maniera rapida veloce molti passaggi della nostra realtà urbana alcune volte in modo più semplice altre volte in maniera più articolata ma certe volte la velocità ci fa perdere una soggettività individuale che in realtà invece il disegno dal vero porta come caratteristica principale di quella che è l'osservazione e certo questo metodo un metodo che abbiamo veramente piacere perché nel 2022 ancora i nostri antenati si formavano e formavano generazioni in questo modo ancora è valido e si unisce si integra e arricchisce tutto ciò che è il passaggio legato proprio alla conoscenza andando avanti abbiamo ci interroghiamo continuamente e soprattutto ragioniamo su come interiorizzare ciò che è l'emozione spaziale che è un luogo e un'architettura rimandano con ciò che è il confronto l'affronto tra mondo interno e mondo esterno e questo il disegno è l'attore principale in tutte le sue declinazioni è supportato da metodi certamente da sistemi da tecniche tecnologie strumentazioni modi lessici e modalità diverse ma il disegno con la D maiuscola è tradizione è manualità ma è anche raffigurazioni digitali illustrazioni cinematografiche tutto ciò che riguarda le rappresentazioni integrate le animazioni tridimensionali i video la realtà aumentata i film tutto ciò che rientra in questo grande ambito che è proprio il disegno come abbiamo scritto in tutte le sue forme una domanda che ci facciamo continuamente per definire il disegno infinite sono le definizioni che si possono dare per noi per noi architetti che lavoriamo nell'ambito del rilievo ovviamente il disegno è scientifico è espressivo è contemporaneamente oggettivo nella qualità e nella quantità ma soggettivo nella sensibilità personale è colorato è allegro è armonico è sensibile è assolutamente geometrico si appoggia a un metodo un metodo sempre rigoroso preciso che insieme ad una grinta unisce la precisione e l'artisticità perché il disegno il disegno per comprendere ma nello stesso tempo e quindi per comprendere chi lo utilizza per comunicare perché dobbiamo trasmettere narrare raccontare per sensibilizzare non solo i nostri giovani il nostro bacino di utenti che si stanno formando nelle nostre facoltà in Brasile in Italia nel mondo ma perché deve aiuta sensibilizzare e una critica un giudizio critico questo è la cosa fondamentale e questo è nella scelta nella selezione ma contemporaneamente il disegno è creatività è immaginazione è interpretazione e riesce a non solo a comunicare ma a divulgare in tutti i modi possibili e immaginabili il nostro patrimonio andando avanti adesso ho promesso saranno solo disegni quindi mostrerò delle immagini e soprattutto con Francesca Porfiri abbiamo diviso la parte che riguarda proprio la conoscenza del patrimonio tangibile e intangibile legato alla materia e alla natura e artificio della quale parlerò io e poi della storia e della conoscenza che parlerà Francesca andiamo avanti con le immagini e penso che i disegni questo lo dico sempre a tutti i miei studenti i miei colleghi forse i nostri disegni parlano di più di quello che è il testo scritto io questo è quello che penso però il tentativo è sempre come narrare raccontare la materia di una città per esempio come Matera in questo disegno monocromatico un disegno che è un pensiero ma è anche una riflessione sulla realtà che esiste nella città di Matera e che rimanda ad una indagine emotiva fare dell'occhio un filtro tra la mente il foglio di carta o tra la mente e poi il sistema digitale ma chi c'è dietro c'è chi disegna che deve regolare la competenza la scienza e l'esperienza perché si tratta di formarle contemporaneamente quindi un disegno come pensiero ma non verbale è un gesto un processo del disegno che apre a continui ragionamenti ancora della città di Matera vediamo questa immagine che è anche lì spero parli da sola un'immagine ad acquarello senza la base del disegno a matita diretta solo una tecnica ad acqua pigmento ed acqua che in maniera semplificata racconta dei fronti urbani della città di Matera e spero ci auguriamo ma ne siamo molto convinti riesca a comunicare quel valore che in realtà percettivo che chi gira per la città di Matera e la indaga per poter pensare a progetti e riqualificazioni future avrà di aiuto da questi disegni in una schedatura o in un tavolo tecnico di condivisione ancora immagini dei vicoli di Matera che è una città scavata è quella che si chiama l'architettura a togliere la maggior parte degli edifici sono scavati nella roccia io credo che questi abbiamo fatto numerosi rilievi ma questi disegni sono serviti per completare arricchire e dare quelle informazioni legate alle atmosfere le atmosfere fanno parte del patrimonio intangibile il patrimonio dell'UNESCO un patrimonio mondiale che aiuta la conservazione dei siti nel nostro mondo e a trasmetterli ha all'interno dell'osservatorio della conoscenza un grandissimo spazio che è dedicato proprio alle atmosfere che vanno conservate e trasmesse ancora disegni ad acquarello veloci qui siamo in Marocco abbiamo selezionato alcune immagini per sentirci vicino più vicino al mondo con voi in Brasile ma soprattutto credo che il linguaggio del disegno ci accomuni disegna d'acqua con tecnica d'acqua di impressioni delle mura della città di Fes della medina della città di Fes in Marocco una delle quattro città imperiali ma anche solo il vicolo l'attimo un'immagine semplificata realizzata quasi camminando muovendosi tra i vicoli ma che spero che comunichi a voi come comunica a noi quel luogo così come l'abbiamo vissuto interpretato e che queste immagini possano aggiungere sensibilità emozioni ma soprattutto dati intangibili alla lettura di questo spazio ancora sempre in Marocco la domanda è sempre quella come narrare la materia di una città come fare a raccontare questo è il soggetto è diciamo proprio quello che stiamo cercando di coinvolgere proprio nella fisicità nel volume nella materia in bianco e nero con l'ausilio dei principi prospettici ma andando a cercare la luce cioè far scattare un processo che nel disegno trovi proprio l'esperienza che si sta vivendo per chi la sta facendo in prima persona ma anche per chi vede e lavora su questi dati ripeto un tavolo tecnico che possa fornire più informazioni qui siamo a Petra in Giordania quindi dove il nostro dipartimento ha fatto notevoli rivievi e con strumentazioni di tecnologia avanzata e qui c'è il controllo il tentativo di controllo dello spazio disegnando con la terra del posto cercando di ritrovare le cromie i colori i gradienti i rapporti e le sensazioni che questo sito archeologico rimanda che aiutano ad integrare i dati analitici restituiti acquisiti e poi restituiti con le strumentazioni e le elaborazioni grafiche ancora il teatro accanto ai teatri al teatro di Petra che avete visto prima le tombe le tombe che sono l'architettura a togliere di cui parlavo e che sono delle meravigliose modalità di sculture architettoniche che ancora gli storici dell'architettura non si rendono e noi non ci rendiamo bene conto di come l'uomo sia riuscito più di duemila anni fa a fare queste espressioni architettoniche raffinate raffinatissime senza l'ausilio di tecnologie come abbiamo oggi e allora l'acquarello il disegno ad acqua con questa tecnica ora qui stiamo a Roma ai mercati di Traiano una rappresentazione di insieme di dettaglio che anche qui cerca di cogliere quelle che sono i valori più sensibili ma anche cerca di trasmettere la luce della materia il misurabile ma anche i riflessi e le trasparenze dei materiali che spesso non sono misurabili ancora andando avanti delle immagini più articolate perché sono di complessi di aree di zone siamo a Roma nella valle delle accademie il disegno ci aiuta e deve restituirci i pieni vuoti la struttura la forma la bellezza dei volumi il rapporto tra natura e artificio tra fondale e architettura e proporzioni degli edifici con lo spazio circostante un'esperienza alla valle delle accademie che anche si articola nelle slide che state vedendo in una lettura sincronica ma anche che cerca di registrare una armonia percettiva un equilibrio percettivo tra paesaggio parliamo di paesaggio urbano ma tra il verde e anche l'architettura di tutte le accademie come in questo caso che ci danno l'opportunità di poter attraverso anche l'integrazione con fotografie digitali e raffigurazioni del verde ragionare su trame su texture su patterns cercare di trascrivere in tutti i modi la realtà urbana del patrimonio che ci circonda io lascio la parola a Francesca Porfiri che continua con la seconda parte e ringrazio il pubblico e i docenti connessi eccomi grazie Emanuela mi sentite? sì io sì lo so non so se loro ci sentono aspetta che faccio un tentativo non vedo più nessuno però nemmeno io come mai? non so è strano stranissimo che ci siamo io e te no eccoli ecco adesso? adesso? adesso va bene bene si sentiva prima Alfonso? tutto tutto Emanuela passiamo la seconda parte abbiamo visto e poi ci parliamo grazie perfetto no l'importante è che si sentisse ok allora ritorno dove eravamo prima ok ok I'll try to speak in English now and then I want to share with you other two important case study that we we have studied together with professor Chiavoni and also with other scholars in this case in this two case that I am going to present to you I want to share with you something that is a little bit different because it's something that we have defined intangible intangible because there is something about the history of this particular place so I start to speak about the first example this example that we presented in 2018 in Milano in the Congress and it was about the quartiere Mastai a neighbor a famous neighbor in Rome that nowadays is not more present the layout of this important neighborhood was destroyed when Viale Trastevere was built so this neighborhood has lost its original design and you can see here on the left for example some sketches some rapid sketches that we made on site to understand all the elements that are inside this composition you can see here for example that there is an important building the tobacco factory that is here I'm indicating now and that is in front of a square an important square and then there is an important street that is Viale Trastevere and that street was very very it was like a cat a cat that was made inside the neighborhood and it destroyed the identity of this important neighborhood so after gathering the necessary historical and iconographic documentations we made a critical reinterpretation of the place based on general and detailed drawings that you can see here obviously some photos of the place and we made also an integrated survey the aim was to illustrate an architectural heritage that is lost that has lost sorry its tangible identity and we want to provide also virtual reconstruction of the original project by using and by recognizing some important elements inside the composition here you can see on the left some historical documentation that underline also the layout the ancient layout so here you can see the tobacco factory the square with the fountain in the center the Mastai street that was the via Mastai and you can see here on the right view from google maps where you can see the boundaries also of the of the Mastai district and the cut of Viale Trastevere so Viale Trastevere or Trastevere street made a dramatic impact on the original neighborhood here you can see on the on the left and on the right at the bottom of the slide the ancient propilia of the entrance because here you can see on the historical documentation these two parts where these many most important architectural elements were like like the entrance for the Mastai street the architect was Andrea Busidivici and in he made this this project in the middle of the 19th century and you can see how much was important also the the perspective aspect of the of the layout of the design of the that enabled and you can see sorry here these two pictures of the ancient propilia that nowadays are still in the place and here you can see some exquisite architectural elements like these serliana windows for example or this ionic and templator with semicolumns also so that was very interesting by drawing on site and also by making the survey the integrated survey it was very interesting to recognize these original elements and to connect them inside the whole project in this picture you can see how much was important to reconstruct an integrated survey by starting from the propilias and by processing through the to the street by arriving inside the square in front of the tobacco factory and underline in a certain way the ancient street that nowadays is not more visible unfortunately here you can see like just a position of the ancient catastrophe sorry with the 3D laser scanning survey so like it is written here we want to narrate the cultural heritage that is no more tangible in its identity and our aim is to make like a narration of a lost speciality of an important frame of the city and in that way we want to redefine in a certain way the new boundaries of the limit of the ancient neighbor and we want like to put again in connection some fragmented part of the city because nowadays it's very disomogenic it's very fragmented and once it was a very unity space so it's very there is a contrast between the ancient part and the nowadays neighbor and through the drawing through the survey processing and through the critical analysis that we made we want to make the ancient neighbor live again in that picture you can see some like fragment of the original project so the tobacco factory and the two propylia that I showed you before and here at the bottom the ancient Mastai district and nowadays on the left the actual project the second case that I want to show you is a very different case because it's about my PhD thesis that I discussed in 2014 with professor Kiawoni like as a tutor and it was a very difficult case study but very full of history of memory of tangible and intangible materials and it concerns architectural representation and it focuses specific on quadratura issue I don't know if someone knows about something about quadraturismo and it is an illusory architecture painting where perspective creates the illusion of special depth on a flat surface and it is like a particular framing on the critical aspect maybe of the critical analysis on cultural heritage and the main object of this work is the study of prospective cynics frisked in the yards of historical building during the 18th century most of all in the northern of Italy and in Bologna that architectural scene that I will show you now were placed at the end of a promenade through the building one of the most interesting example was designed by Antonio Galli Bibbiena an important architect and stage designer of the 18th century and here you can see on the left for example the Antonio Galli Bibbiena paintings and it is very connected with perspective tricks and here for example for this case I put here some treatises that I had to study to understand the composition and I put other two famous examples about quadratura issue here you can see in the center an important work by Andrea Pozzo and on the right at the bottom of the slide you can see here the Teatro Olimpico of Vicenza so this particular issue is very linked to quadraturismo perspective tricks and stage design here you can see something about the analysis and the study obviously it was a two year study so I had many materials to show now I try to be more to go to go fast sorry so it's important to say that through drawing and through understanding and observing on the site this particular case study I could imagine how the author could create something like that these architectural scenes were placed at the end of a promenade through a building and they were mimicking the wings of a theater stage and the study aimed to approach a digital 3D reconstruction of the painted scene and it was based on an accurate documentation and a combination of architectural survey technique francesca si hai ancora 5 minuti scusami perché la diretta chiude a mezzogiorno e 30 quindi dobbiamo grazie 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 ok and it simulate the viewer's eye guided across the building towards and inside the scene to understand the actual state of the painting scene I had to draw it so to understand it after having after had surveyed it with many integrated technique I had to underline the tracks also that there were on this painted wall and unfortunately many of these scenes have been lost through the years due to exposure to the elements and also to the human neglect and it was very important to understand this specific issue by understanding also the geometric composition inside this painting because they were made by using perspective tricks to create the illusion of a three dimensional space on a flat surface so I studied this important painted scene and tried to reconstruct the 3D scene and then I had to analyze the possible texturization about the three dimensional scene because finally I had to see something very similar to the ancient perspective frescoed scene so I imagine only one way to communicate this kind of intangible cultural heritage because it's something that there was on the 18th century and nowadays it's not very easy to imagine and understand so I imagine a video mapping scene so projecting the three dimensional reconstructed scene on the wall I could simulate the digital reconstruction and I could simulate also the viewer's eye guided across the building so only to conclude we want to say that through the drawing and thanks to the drawing and all of his hues is possible to analyze to interpret and to narrate the cultural heritage in all of his aspects and by using like you have seen digital drawings video mapping but also freehand drawings watercolor drawings is like a methodology a scientific methodology sorry to understand and to study in a critical way every kind of cultural heritage so thank you for the attention grazie grazie davvero grazie grazie a me io darei la parola a Carlo e Roberto chiedendo anche loro di cercare di stare nei tempi nel caso riuscissimo a avere un piccolo dibattito perché poi come dire la comunità non godrà più su youtube della delle vostre comunicazioni lascio la parola a Carlo inglese e Roberto Barni grazie ok Alfonso I will begin with my part of presentation I will talk in English and then I leave the word to Roberto and I want to share my presentation sorry Alfonso caricare è lontano siamo lontani Roma Roma è lontano yes yes very too far really far away really far away can you see my presentation? no ok I will try to ok condividi no finestra finestra ok condividi ok ecco perfetto Carlo ora si vede benissimo ok thank you thank you ok thank you thank you Alfonso thank you Simone for this possibility to share our research experience Alfonso knows very well this this the team of the topic of this presentation but this is a presentation our is a experience of integrated survey that our research group with Alfonso Carlo Martina Marica Roberto participate to this survey that way that way this work has carried out in these last two years and it's still carrying out on the Galleria Borghese in Rome a wonderful wonderful space that I will show during this presentation but just only a mention when we speak about integrated survey we mean the use simultaneous of different survey methodologies that a few years ago we use this methodology in a separate way now we use in the same time on the same object this different methodology and so we call integrated survey we know that through survey we achieve knowledge of architectural elements in fact in fact survey leads to the construction of 2D and 3D models the whole workflow you can see in this slide the whole workflow can be divided into several steps such as data acquisition data selection and interpretation representation and communication this is our workflow that we use in every our experience of survey in the digital period before carrying out the measure the object was discretized through a critical analysis of the architectural morphology the survey project was verified during the measurement campaign and digital technology have transformed the heart of measurement from a selective acquisition to a massive acquisition one or massive one aimed mainly at the description of the surface of the object to be surveyed naturally a modern conception of survey cannot be separated from an integration of information of a heterogeneous nature as you can see in this slide now in the slides you can see the difference between the different methods of massive acquisition that we use during our survey experience we have two kind of methodologies that we use normally photogrammetry that is divided into image based modeling and nodal photography and laser scanner when we talk about the survey integration of survey we talk about the integration of these two methodologies and in in generally excuse me generally we use photogrammetry for the good quality of the image resolution instead we use a laser scanner for the acquisition of the geometry of the shape of the subject that we are surveying in this slide you can see instead the critical elements of the two methodology generally the photogrammetry as the heights and brightness are critical elements instead for the laser scanner only excessive aids are really problem possible solution for this problem are metric roads scaffolding mobile scaffolding or the integration with the surveys from drones that we used in this experience as I will show you and as I told you before the two methodologies are used for the type of data that we can obtain three-dimensional model from laser scanner for morphological and medical characters photogrammetry for chromatic and material characters in general to survey flat surfaces we use two-dimensional image based models with high resolution image for curved surface we use three-dimensional image based model with image based 3D models I go quickly on the description of the laser scanner that you know very well also because I know that Alfonso are doing trials with you with the laser scanner just only one annotation on the technology of the laser beam emission we have two different technologies one based on time of flight and one on phase difference both calculate the time elapsed from the emission of the laser beam to reception yes here in this slide you can see the faro focus laser scanner that we mainly use for its manageability and easy of use I think that Alfonso I'm sure that Alfonso has my faro focus 3D scanner laser with him and I don't know if Alfonso are using this scanner with someone of you and now I want to do a focus on the application of photogrammetry the nodal photography nodal photography is a particular type of photogrammetry application in which each shot is taken from the same projection center that coincide with the nodal point of the optics the final image is obtained by merging a set of single shots with a margin of overlap with the next ones as you can see in this in this picture the images have usually a high level of definition in fact the acronym is high resolution image and allow to acquire a high level of detail here you can see an application on the church of san bernardino in urbino with zoom on the masonry to understand the eye level of detail nodal photography is obtained through the use of manual or motorized panoramic heads as you can see in this slide through which I can set the subdivision of the pictures that I want to take okay sure to obtain a metrically reliable result we can do an accurate calibration of a nodal point that we do normally in a laboratory and now I want to present this our case study of Galleria Borghesia in Rome that we are studying with my beautiful group of research one of the most important museums of Italian Renaissance sculpture and painting building in 1607 by Camillo Borghese the future Papa Paolo Quarto Quinto excuse me continued by Scipione the nephew of Camillo and restored in 177 by Marc Antonio our research work was used to document the morphology of the gallery in particular the vertical and horizontal surfaces of the rooms to understand the marble and plastered parts we therefore designed an integrated survey in fact you can see in this slide the parts of the gallery that we have surveyed through topography laser scanner acquisition drone acquisition and photogrammetry and these are some of the main rooms we call sale of the gallery this is this one is the sala degli imperatori with the famous ratto di proserpina by Gian Lorenzo Bernini a very famous statue and please look at the richness of the decoration of this room this one is the sala dell'anfranco these are the main rooms of the Galleria Borghese this one sala of Paulina Borghese with the statue by Canova very famous and this one sala di Apollo Daphne by Bernini beautiful statue that I think that you know very well this one the sala of the satiro danzante with a series of very famous paintings of by Caravaggio these are the rooms in which we work now actually and here a list of the methodology used and the results obtained using these methodologies integrated survey I remember you three dimensional numerical model topography or image photo plants factorial 3D models 3D dimensional numerical model obtained from the laser scanner acquisition 3D numerical model obtained from the laser scanner acquisition give us the geometric characteristics of the monuments here you can see the layout of the position of the faro the scanner faro and the leica c10 c10 because we use two kinds of different scanner laser one in the exterior part and the other in the interior of the galleria here again the localization of the c10 laser scanner and the faro focus 3D laser scanner this is the first result the numerical model the point cloud of the exterior of the gallery obtained from the acquisition with the 3D laser scanner this one is the again the numerical model of the exterior of the gallery in the reflectance modality here again the numerical model of the interior of the gallery again to sala to rooms sala 4 and sala of paulina borghese here again and topography another methodology that we used and we use generally in this kind of integrated survey topography is another methodology that we use to correctly link point clouds and photographic image from photogrammetry in fact you can see here two integrated numerical model with topographic point you can see in black put on the point cloud model the ortho image or to image are elaboration of a numerical three dimensional model with the subsequent orthographic projection of the textures on a two dimensional plane here you can see the faces of the shooting with the use of the mobile scaffolding here the layout of the photographic shoots for each wall of the rooms surveyed please look at the number of shoots that we have to take in this case Marika take these photos here again sala 6 here again sala 7 and here you can see the result of this methodology I want to show you the incredible possibility that this kind of model offer us if I have just a moment I want to show you I want to show you this one in another program I want to show you the incredible possibility that we have with this kind of photography you can see the gold on the capital and you can see the mosaic with very small tiles that we can we can zoom and zoom and zoom in consider that Carlo non vediamo ah no cambia la fenestra si 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 perché ne vale la pena si cambia la fenestra scusatemi un attimo no no aspettiamo va benissimo allora slide no condividi vedete no ancora no scusatemi scusatemi tranquillo tranquillo io ti credo che devi fermare quello pepeteo quello poveri eh sì devo fermare un attimo questa un attimo sì devo fermare un attimo questa e fai se lo riduco non la vedete ora no condividi no no ma tranquillo adesso arriva aspettiamo adesso adesso un sospense no non vediamo no mi dispiace mi dispiace perché è veramente interessante eh vediamo un po' no no ok forse è troppo invece che la finestra condividi schermo condividi schermo però c'è segni schermo e non c'è un condividi schermo vediamo condividi paolo condividi schermo e li devi aperta chi è là condividi condividi ora no 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 oh no condivido finestra ah oh ok adesso adesso ok ok good good very good very good and ok this one is the ah no no vediamo 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 solo la cartella con i nomi no io penso che sia riprova riprova sì sì aspettiamo aspettiamo un po' per un secondo abbiamo visto qualcosa no eh no dai carlo no vabbè scusatemi allora riprendo lo vedranno qui glielo faremo vedere ah facciamo vedere perché carlo ok ok when I come next week I show you this beautiful photography very 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 shocking because you can see the the particular at ten centimetri in front your eyes very very beautiful and so ok here a comparison between the photographic image that I will show you next week and the auto image you can see the difference this is a perspective because this is a picture and this is a orthographic projection on a vertical plane may have the possibility of zooming devi riaprire il powerpoint carlo non vediamo devi chiudere questa finestra che ci hai aperto e riaprire il powerpoint di prima ma è questo no noi non vediamo il powerpoint ma vediamo la cartella con adesso forse sei uscito scusate eh proprio allora facciamo così condividi condividi schermo condividi schermo condividi condividi ora ok 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 sorry sorry for this ok cambia visualizzazione se ne visualizzazione di vista relatore ok ok così va bene si va bene ok no 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 ok Alfonso quickly in this case orto image of the of the piviment of the sala quattro and then very 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 quick I want to show you some other photo plants the same way to shooting the photo plants with this scaffold mobile scaffold to reach the high part of the gallery in this in this scaffold where where Marica in this case that they took photos from this scaffold and these are the wall of the rooms of the Galleria Borghese in which we took this photo and this one are the photo plants also in this case the possibility that we have to zoom our image and reach this particular of the capital of the marble of the decoration in general is very very high you can reach this wall until 10 centimeters and it's very 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 beautiful to see this one are the one of the first result of this integrated survey this one is the model virtual model 3D model of the of the Galleria exterior part of Galleria that we did this model with acquisition from drone for the high part of the gallery and acquisition the cloud of points from the 3D laser scanner we merge together this kind of different kind of data and we reach this kind of model again these are the model 3D model virtual model of Galleria Borghese the interior of Galleria Borghese it's very interesting to see this kind of visualization because you can understand something about the shape the confirmation of this important gallery and and yes the last results of this methodology is the bacterial model 2D models because from the photogrammetry we can extract these 2D bacterial design as you can see in this slide naturally planned and plan with the data color that we extract from orto image section facade naturally and now the last one is this model 3D model navigable that I want to show you it's a very quick video that I show you is a virtual working in the Galleria Borghese from acquisition of structure from motion to the low poly model this is the room of the satiro that I showed you before this generation of the cloud points that comes from the photogrammetry again the creation of low poly model of the room and of the statue of the satiro you can see the discretization of the wall and the ceiling of the room with a lot of surface these other sala of paulina borghese you can see the model of the statue of paulina put inside this room the results will be a model that we can navigate in a free way you ok this was the last my slide ok puoi iniziare thank you sto condividendo si vede si vede cercherò di essere rapidissimo perché so che c'è davvero poco tempo vi presento la mia parte della mia tesi di laurea che appunto è un po' il percorso che hanno raccontato i vari professori cercando di unire tutti questi metodi poi in un modello che va a valorizzare il Duomo d'Orvieto in una sua fase storica che è andata persa a casa di restauro del 1900 il Duomo d'Orvieto è un importante monumento che si trova nell'Italia centrale è stato fondato nel 1290 su disegno probabilmente di Arnofrio di Cambio e la facciata di Lorenzo Maitani il mio progetto di tesi prevedeva la ricostruzione della fase cinquecentesca del Duomo che è andata perduta appunto a casa questo restauro il restauro voleva riportare alla luce il Duomo nella sua epoca medievale quindi come potete vedere non so se avete il mio mouse le nicchie sono state tutte svuotate dalle edicole e dalle palle di altare che erano presenti perciò c'è stato un grande studio delle fonti uno studio d'archivio tramite appunto quest'indagine molto approfondita si sono ritrovati dei disegni e delle foto della fase cinquecentesca questi appunto sono i disegni dove si possono notare tutti gli affreschi e tutte le decorazioni che erano presenti all'interno del Duomo prima del restauro con le edicole e le statue che erano poste all'interno del Duomo d'Orvieto stessa cosa appunto oltre a raffigurazioni ci sono trovate delle piante con evidenziate le edicole e tutte le statue su altri documenti numerate nella loro posizione e appunto queste qui sono le foto documentali dove troviamo tutte le fasi delle tutte le edicole nella loro fase riniscimentale del cinquecento e dopo il restauro che va a documentare la fase medievale quindi abbiamo perso tutte le tutta la parte materica del Duomo queste sono altre foto purtroppo sono a bassa definizione e quindi non si possono apprezzare lo stesso studio è stato affrontato per quanto riguarda le palle d'altare quindi oltre a tutta la parte architettonica si sono andate a studiare dove erano poste tutte le raffigurazioni per ricollogarle poi in questo modello 3D che andremo a vedere prima ovviamente prima della ricostruzione del modello c'è stata tutta quella fase di rilievo che è stata ampliamente già spiegata dagli altri professori quindi si è andato a fare in questo caso particolare un modello fotogrammetrico derivante appunto da structure from motion e da macchinetta fotografica abbiamo delle lacune sulle parti delle falde del tetto poiché non è stato possibile usare il drone ma il rilievo è stato integrato sempre da documenti di altri rilievi del 1800 quindi velocemente si è andato a indagare quali sono state le fasi in pianta inizialmente abbiamo un unico corpo che probabilmente si ipotizza a causa di piccoli cimenti dovuti a un terremoto sono stati aggiunti di contrafforti nella parte dell'abside e del transetto e che sono stati sfruttati per l'ampliamento delle due cappelle laterali e del coro per la visualizzazione di questo modello ovviamente siamo andati a rielaborare la mesh questa qui è la mesh derivante da structure from motion come vedete è abbastanza ingestibile poiché i poligoni sono davvero tanti e la quantità di questi poligoni non ci permetteva di avere una modellazione fluida e perciò sulla base di questo rilevo si è andato a ricostruire la facciata in una modellazione poligonale l'opoli quindi andando a semplificare molte geometrie ma permettendo quindi una modellazione più fluida e una visualizzazione dell'intero modello in maniera decisamente più veloce quindi questa è l'intera facciata che è stata ricostruita e anche tutto il corpo laterale ovviamente l'intero processo è stato rappresentato anche in bidimensionale e per quanto riguarda anche l'interno quindi come vedete questa è la modellazione che va a semplificare tutte le geometrie dei capitelli delle edicole e delle colonne tortili per poi arrivare alla visualizzazione finale che è quella del rendering dell'interno il rendering dell'interno era fondamentale poiché l'obiettivo finale era restituire questa oltre all'aspetto attuale del duomo poterlo fruire attraverso dispositivi a 360 gradi come Oculus Go quindi tutti gli ambienti vengono renderizzati in formato equirettangolare dove abbiamo un lato che è il doppio dell'altezza dell'immagine questo ci permette di visualizzarlo appunto all'interno di questi dispositivi per fruirlo a 360 gradi quindi la fase attuale appunto come potete vedere non ha più queste edicole attraverso appunto le fonti abbiamo ricostruito tutte le intere navate con le edicole, le pali d'altare tutto quanto non ha avuto lo studio del colore poiché sarebbe stato un lavoro troppo ampio per la tesi e sarebbe servita un'indagine molto più approfondita ma sono state anche ricollocate tutte le statue davanti le colonne del duomo d'Orvieto in particolare poi ci si è concentrati sulla terza cappella di sinistra dove avevamo più documentazione per ripristinare per cercare di rievocare quello che poteva essere l'aspetto reale anche dei colori attraverso lo studio di opere vicine quindi abbiamo la fonte documentale della terza cappella e qui la ricostruzione che prevede anche appunto i colori di come l'ipotesi dei colori che poteva avere il duomo nell'epoca cinquecentesca termino con una bibliografia sono stato velocissimo ho visto che il tempo stava per finire grazie Roberto grazie grazie mille e io farò una ah anche non abbiamo tempo per fare una discussione non abbiamo tempo per fare una discussione lunga ma qualcuno nella platea ha alcuna questione rapidissima per colocare io parlerò in italiano scusate il pubblico però io parlerò in nome dell'istituto di architettura e urbanismo congratulazioni per tutti qui hanno presentato questa importante conferenza non è importante solo per l'accordo che abbiamo fatto il professor Ippolito io però questo momento è importante per condividere con tutti gli studenti brasiliani un modo un metodo di lavoro che integra perché oggi abbiamo visto non solo le questioni digitali con tutte le tecnologie però anche il disegno Emanuela carissima il disegno Francesca Porfiri il disegno a mano perché qui abbiamo anche il professor Paolo Castrau e il professor Giober che lavoriamo anche con questo tipo di rappresentazione e questo è stato importantissimo perché qui gli studenti possono vedere l'integrazione l'integrazione tra il disegno a mano il disegno d'osservazione e la tecnologia di documentazione Ippolito ha fatto con Martina e con Marika qui un grande impegno di insegnare a questi studenti questa metodologia e ringraziamo anche a Rodrigo Peronti che è qui con noi che è un rappresentante della fondazione Pro Memoria e che lavoriamo insieme e adesso io so con questa parola non sono possibile di fare tutte le ringrazio ma di cuore ringrazio Inglese Barney anche Bianchini che non c'è non c'è più Emanuella e Chiavoni Porfiria grazie mille per questa opportunità abbiamo tantissime congratulazioni il nostro Youtube abbiamo anche persone importanti del Brasile qui nel Youtube che hanno visto questa comunicazione grazie grazie mille io lascio l'ultima parola a professor Ippolito allora io ripeto ringraziamenti per tutti i miei colleghi con i quali ormai lavoriamo da tantissimi anni sembra da poco ma in realtà sono veramente tanti ma soprattutto la cosa che mi interessa sottolineare è questa grande volontà da parte delle istituzioni compresa la fondazione Pro Memoria che si lega a noi dandoci la disponibilità di poter effettuare delle campagne di rilievo ma allo stesso tempo di poter analizzare e studiare insieme a loro tutto un patrimonio che è sicuramente importantissimo credo sia ancora una volta importante sottolineare la grande disponibilità ricevuta dalla IAU che ha permesso di condividere questo momento dall'Italia con il Brasile nell'idea di continuare a sviluppare e svolgere ricerche congiunte nei prossimi anni io non avrei altro da dire se non ringraziarvi ancora per le vostre interessanti presentazioni che devo dire ogni volta che le vedo anche se alcune mi vedono coinvolto mi colpiscono sempre ma soprattutto veramente grazie per aver continuato a sottolineare quello che noi abbiamo fatto in questi giorni con i ragazzi e cioè un'importante scuola che lavora su un metodo un metodo scientifico che è sicuramente l'elemento più importante della nostra ricerca e che continuiamo a portare avanti sistematicamente cercando di condividerlo con altri colleghi nello specifico nel mondo siamo in Brasile siamo veramente lontanissimi cercando di portare avanti questa metodologia congiunta che può trovare sicuramente spazio anche altrove ovviamente con le opportune critiche possibilmente tante per poter migliorare anche noi nel nostro futuro ancora grazie ancora grazie a tutti grazie a Rodrigo grazie a Simone che ha fatto un lavoro grandissimo di organizzazione di tutto quello che sta succedendo e anche grazie a lei Clarisse che viene qui che è dalla Università di Oropreto che ci vedrà impegnati la settimana prossima anche Carlo Bianchini e Carlo Inglese verranno lì ringraziamo tutti ancora grazie davvero un ciao non ci vedremo tra un po' con Carlo tra meno di una settimana prepara il costume ciao Francesca ciao Emanuela grazie ancora ciao Roberto e scusa per la compressione che sei rimasta alla fine e devo andare velocissimo comunque grazie molto efficace alla tua presentazione un saluto grazie a voi un saluto a tutti un saluto a tutti ciao ci vediamo ci vediamo ci vediamo grazie a tutti